La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Passiamo al CEO dell'anno Innovazione e Leadership, Ingegneria Multidisciplinare. Questo premio va a Patrizio Cuomo, ProNG. Per le intuizioni, la tenacia e la capacità strategica dimostrate nei 10 anni alla guida di una realtà sempre più versatile, per aver raggiunto un alto grado di eccellenza sia in Italia che all'estero, in diversi settori dell'ingegneria edile, civile e meccanica, per la specializzazione nella progettazione di reti di telecomunicazioni, per la telefonia cellulare, fino a quella relativa a impianti eolici, fotovoltaici ed infrastrutture per la mobilità elettrica. Patrizio Cuomo, grazie e buonasera. Diamo il nostro benvenuto a Patrizio Cuomo, CEO e amministratore unico di ProNG SRL. La vostra è una realtà nata nel 2013 e altamente specializzata in servizi di ingegneria negli ambiti della progettazione di reti di telecomunicazioni, per la telefonia cellulare e delle energie rinnovabili. Questa sera le è stato consegnato un prestigioso riconoscimento come CEO dell'anno. Come vuole commentare il premio ricevuto e i traguardi raggiunti in questi 10 anni di attività? Buonasera a tutti, per me è un onore aver ricevuto la vostra convocazione, che credo sia un po' il frutto dei lavori e del lavoro che abbiamo fatto da quando siamo nati. Siamo nati nel 2013, 10 anni fa, eravamo una piccola realtà campana e poi col tempo, con sacrifici, ci siamo irrobustiti, siamo cresciuti, siamo diventati una media grande realtà italiana. La nostra azienda ha tre sedi operativi in Italia, Napoli-Ruomo-Milano, abbiamo anche due sedi in Brasile, quindi abbiamo avviato un processo di internazionalizzazione, una sedia a San Paolo ed una a Rio e tutto questo è stato fatto in quest'arco di 10 anni. Un tempo relativamente breve, se uno pensa a quanto è difficile anche in Italia, devo dire, e un po' in realtà nel sud, crescere e affermarsi in maniera competitiva e anche rapidamente. Questo premio è un po' testimonia questa crescita, repentina e anche molto importante dal punto di vista di come siamo cresciuti, dal punto di vista della professionalità, che pian piano abbiamo inserito in azienda con tanti ingegneri che ci hanno aiutato tantissimo, sono la nostra materia prima e ci hanno aiutato tantissimo a crescere, a diventare forti e a inserirci in un contesto anche internazionale. Noi lavoriamo con i maggiori player nazionali e anche internazionali, collaboriamo tantissimo per quanto riguarda lo sviluppo dei piani della Nazione d'Italia in ambito PNRR, quindi collaboriamo tantissimo con le aziende come Open Fiber, come Team, che sono quelle che stanno cablando con la fibra tutta l'Italia. Ed è un progetto ambizioso, molto difficile, considerando anche la morfologia del territorio italiano, con tanti paesini, con tante realtà piccole, quindi molto difficili, ma per questo è anche molto sfidante. E noi siamo riusciti, crescendo inizialmente un po' alla volta, poi tutto a un tratto siamo esplosi proprio per la richiesta di fibra che c'è in Italia, di telecomunicazioni che c'è in Italia, che il paese d'Italia ha bisogno di evolversi in questo senso e ci stiamo riuscendo, grazie anche a tante altre imprese, i nostri partner, i nostri collaboratori, tante imprese in Italia. Questo è un po' un riconoscimento che io ho apprezzato tantissimo, è l'emozione anche di essere intercettato per ricevere questo premio ambizioso e per me e anche per tutti i miei collaboratori che tra l'altro saranno qui presenti come esponenti di tutta l'azienda per riconoscere quello che abbiamo fatto. Ci ho detto, chiaramente, questo è una tappa. Come dico sempre a tutti i miei collaboratori, ogni raggiungimento di un obiettivo è sempre da considerarsi come una tappa. Io sono appassionato di ciclismo e chiaramente questa è una tappa che possiamo dirla anche come un gran premio della montagna, ma dopo di questo ci sarà poi il traguardo, ci sono altri traguardi che noi dobbiamo raggiungere e tutti sanno, i miei collaboratori sanno che ogni obiettivo raggiunto non è mai l'obiettivo finale, ma è sempre una tappa intermedia perché abbiamo tantissime altre da raggiungere, tantissime altre da raggiungere che ci porteranno ancora più lontano. Questo riconoscimento chiaramente non è soltanto il mio riconoscimento, fa fatto a me, ma è un riconoscimento che io voglio indicare a tutta la mia azienda, a tutti i collaboratori che lavorano con me tutti i giorni senza stancarsi mai, senza enunciare a nulla, senza lasciare nulla di intentato ed è questo quello che io voglio trasmettere a tutti i miei collaboratori. Questo riconoscimento non è il mio riconoscimento, ma è il riconoscimento di tutti quelli che lavorano con me e che hanno lavorato con me e che poi sono andati via, perché è anche grazie a loro che noi siamo qui oggi a prendere questo prestigiosissimo premio. Chiaramente tutto ciò che abbiamo fatto e che io ho fatto in tanti anni, lo devo anche ovviamente alla mia famiglia, che in questo momento non è qui con me. Ringrazio i miei tre carissimi figli che sanno che oggi sono qui, mi hanno chiesto subito di girargli video con calma e ringrazio anche la mia attualissima compagna che mi sopporta, mi sopporta, le mie scorribande nazionali e internazionali e devo anche a loro il mio successo e il successo nella mia azienda. Come ha detto lei, il vostro è un mercato fortemente competitivo e in continua evoluzioni. Quali sono state le strategie messe in campo dalla ProNG per costruire la vostra posizione e per consolidarla? Dunque, la strategia è stata la strategia che abbiamo messo in atto di lungo termine in realtà. Sapevamo che quando siamo cresciuti, quando abbiamo avviato l'azienda, sapevamo che entravamo in un contesto difficile dove c'era tanta competizione e quindi la strategia, l'idea che abbiamo messo dentro all'azienda è la competenza, la qualità. Quindi questo è stato il primo pilastro, il pilastro fondamentale su cui abbiamo fondato la nostra crescita. Crescere con le competenze, con la qualità, con il rispetto degli obiettivi, dei tempi che il cliente ci ha imposto e che impone giustamente per poter sviluppare i propri progetti. Quindi, inizialmente, il nostro obiettivo è stato quello di intercettare quanti più ingegneri era possibile reperire sul mercato. Apro una piccola parentesi. Oggi il mercato Italia per le competenze è molto difficile, molto difficile. Si trovano pochissime persone e pochissime competenze in giro, sono veramente rari. Oggi trovare ingegnere in Italia è molto difficile. C'è un mercato molto fluido e questo ci ha complicato un po', ma è stata anche una sfida. Per questo motivo un'altra strategia che abbiamo messo in piedi è quella di collaborare con molte università italiane, tra l'altro anche qui a Milano, come a Napoli, come a Cassino, dove facciamo continuamente meeting con le università, con cui abbiamo stretto molti contratti di collaborazione proprio per reclutare ingegneri, architetti. È un mercato molto complesso, molto difficile. I nostri ingegneri purtroppo spesso lasciano l'Italia, spesso lasciano l'Italia e questo crea un problema al Paese. Non soltanto la mia azienda, ma un po' tutti i nostri competitors. C'è un problema di reperimento di risorse, di ingegneri, di menti. Anche se, devo dire, nel mio caso siamo riusciti a fare il processo inverso. Abbiamo portato in Italia degli ingegneri che lavoravano all'estero, in Germania piuttosto che in Inghilterra, italiani chiaramente, e siamo riusciti a portarli in Italia, grazie anche al Paese Italia che concede degli sgravi, delle opportunità economiche per il rientro, come sapete, delle menti, dei cervelli in Italia. E quindi questo è stata una strategia, come dicevo prima, di fornire l'azienda di competenze. Di competenze perché è l'unica maniera per poter crescere. Attraverso le competenze puoi esprimere la qualità del lavoro che fai. Se purtroppo oggi non hai competenze in azienda è veramente molto difficile competere in un mercato nazionale, ma anche internazionale in Italia, perché in Italia non esistono tanto aziende come la mia italiana, ma esistono anche molte realtà, molto grandi. Una per tutte, Accenture, che è un colosso mondiale e noi spesso ci troviamo a far fronte a colossi del genere e chiaramente l'appeal di Accenture certamente non è l'appeal di una pro-NG, ma noi riusciamo a essere attrattivi perché abbiamo basato anche la nostra azienda su un'azienda che riesce a mantenere un clima all'interno molto familiare, molto bello. Quindi diciamo un'azienda dove sicuramente si vive bene, non abbiamo mai avuto un licenziamento, non siamo persone che licenziano, siamo persone che attraggano le persone, le coccolano affinché siano bene con noi dalla mattina alla sera, perché purtroppo il nostro lavoro è un lavoro molto intenso, molto intenso, a volte anche molto difficile, anche perché i nostri clienti sono molto esigenti ed è giusto che sia così e quindi chiaramente per trattenere i giovani che spesso oggi sono attratti da mercati anche a volte più semplici, il mercato dell'influenza piuttosto che i mercati via web, sono mercati molto attrattivi e per questo anche a volte, come dire, sottraggono risorse a cose, diciamo, che non vorrei essere, come dire, non vorrei dire una parola semplice, ma anche molto più, come dire, per un ingegnere fare un ingegnere e vedere poi qualcosa che si realizza è qualcosa di bello, è qualcosa per cui un ingegnere ha studiato, un architetto studia per vedere realizzato un palazzo piuttosto che qualcosa di reale. Su web è molto dematerializzato quello che si fa, invece noi facciamo cose vere, facciamo cose che servono al paese, al futuro del nostro paese e questa è stata la strategia base, avere competenze, far vedere ai nostri ingegneri cosa facciamo e mandarli anche in campo per vedere quello che hanno progettato, cosa effettivamente poi diventa e questa è una grande soddisfazione per tutti i nostri ingegneri che sono cresciuti con noi, molti giovani ingegneri che sono cresciuti, hanno fatto molte esperienze, qualcuno a me ci ha anche lasciato, ma io ringrazio anche loro, perché anche loro hanno contribuito a mettere in atto la nostra strategia. Adesso chiaramente l'azienda pian piano si è evoluta e è diventata sempre più grande, abbiamo toccato un picco di 150 dipendenti e quindi ci siamo anche poi strutturati in maniera abbastanza robusta, quindi abbiamo tutte le funzioni di staff, abbiamo anche preso dall'esterno ovviamente una importantissima figura nel mondo delle telecomunicazioni, il dottor Fabrizio Nanni che è il nostro direttore generale, una trentennale esperienza nel mondo delle comunicazioni, in giro per il mondo, dal Brasile all'Argentina, alla Francia, all'Italia, insomma un personaggio di assoluto livello e chiaramente al mio fianco c'è sempre stato all'inizio il genio Mario Vivo, con cui abbiamo fatto insieme gli studi universitari e oggi è anche il mio socio, nonché il direttore tecnico dell'azienda, con lui abbiamo costruito da zero questa azienda e abbiamo avuto una visione di lungo termine, quindi è anche un messaggio da dare a tutti coloro che vogliono aprirsi al mondo dell'impeditoria, avere una strategia di lungo termine, il medio termine non ti lascia spazio alla crescita, a meno che non riesci a fare delle cose eccezionali, delle invenzioni particolari, ma la strategia è importante avere competenze e a lungo termine. Noi il lungo termine l'avevamo ipotizzato intorno ai 7-8 anni, invece dopo il quarto-quinto anno siamo esplosi in maniera molto esponenziale, vertiginosa, per cui siamo anche stati in un attimo di difficoltà nel gestire questi processi che avevamo acquisito come progetti, ma avendo io anche un'esperienza precedente come manager del più grosso gruppo italiano all'epoca FCA, quindi anche un po' la cultura di gestire processi complessi in aziende complesse, e questo ci ha poi aiutato a essere subito pronti per gestire la rapida crescita che abbiamo avuto in questi anni. Chiaramente adesso ci siamo ancora strutturando sempre di più, perché non possiamo mai fermarci e dire ci siamo strutturati, mai. Dobbiamo pensare sempre che il mondo cambia, cambia anche molto rapidamente, cambiano le esigenze. Ultimamente adesso ormai si parla totalmente delle energie rinomabili, del green, e quindi noi ci siamo riconvertiti anche in una buona parte, i nostri ingegneri, a occuparsi di questo mondo, che è un mondo completamente diverso da quello che noi inizialmente avevamo come core business, ma è un mondo affascinante, è un mondo del futuro e molti ingegneri, molti dei nostri ingegneri sono affascinati da questo fatto, da vedere che possono contribuire a far diventare un mondo migliore. Adesso uno sguardo al futuro, quali sono gli obiettivi personali e aziendali che desidera raggiungere nel 2024 e nei prossimi anni? Allora, il primo obiettivo è l'anno prossimo di vincere questo prestigioso titolo, evidentemente, quindi ciò vuol dire continuare a lavorare solo. Abbiamo come obiettivo adesso di continuare a consolidare il mercato Italia nel mondo delle telecomunicazioni, nel mondo delle energy e soprattutto una nostra peculiarità, noi siamo una delle pochissime realtà in Europa che lavora con il governo federale americano. Ultimamente ho partecipato a un evento importantissimo a Napoli con il governo, dove ci hanno spiegato quali sono i piani da qui ai prossimi tre anni di quello che faranno e quindi il nostro obiettivo in questo momento è consolidare ciò che sappiamo far bene, quindi il mondo delle telecomunicazioni e ci stiamo preparando ad affrontare quello che è il mondo delle energy. Sarà un'esplosione quest'anno di quanto necessario è rendere il mondo più green, tantissimi impianti e uno dei nostri clienti ha dei piani importantissimi di sviluppo, di attività molto importanti per aumentare le infrastrutture del Paese dal punto di vista elettrico. Tante cose sono da fare, tantissime, una per tutte sono certamente dotare il Paese delle famose colonnine di ricarica perché tra poco il mondo automobilistico avrà praticamente come rifornimento l'elettricità, i carburanti saranno tradizionali, saranno sempre un po' più, diciamo, sarà un'alternativa, sarà un graduale passaggio dal tradizionale mondo automobilistico, diciamo, con carburanti tradizionali a quello elettrico e quindi noi anche qui siamo molto, siamo chiamati a fare anche noi la nostra parte, chiaramente con i limiti che ci sono nel mondo degli ingegneri, come dicevo prima, purtroppo ingegneri non ce ne sono, in Italia abbiamo una carenza di ingegneri, noi siamo continuamente a parlare con i lettori per dire che devono muoversi da fuori ingegneri, anche loro devono essere dei commerciali, devono attirare persone per diventare ingegneri, loro devono essere più lettori ma devono essere dei commerciali perché altrimenti non avremo tra poco ingegneri in Italia e questo è un problema gravissimo che io lo dico ogni volta che mi incontro con l'università, dobbiamo tirar fuori gli ingegneri, ne abbiamo, purtroppo bisogno spasmodico, cioè non ce ne sono, non esistono e quindi che ce ne sono pochissimi vanno via. Quindi il nostro piano di sviluppo in Italia è questo, dobbiamo consolidare ciò che stiamo facendo nel mondo delle telecomunicazioni dove abbiamo radici molto forti, abbiamo avviato un piano di espansione nel mondo delle energie, adesso stiamo lavorando con il governo americano, parliamo quindi di basi NATO in Europa e nel Middle East, dove c'è tantissimo fermento e penso che adesso in media cominciano a capire perché c'è tanto fermento, purtroppo le guerre nel mondo esistono, purtroppo la guerra in Ucraina non è ancora finita, ma finirà, dovrà finire per forza e noi saremo pronti a dare una mano per la ricostruzione anche del paese, poverini, poverini e ucraini e quindi siamo anche forti in questo mondo. L'altro importante piano di sviluppo che abbiamo è quello internazionale, abbiamo deciso grazie al nostro direttore generale che aveva una fortissima presenza e conoscenza di network in Brasile, abbiamo avviato, abbiamo aperto le due sedi in Brasile, abbiamo già la società operativa e a brevissimo anche lì avvieremo tutte le attività che sono parte delle nostre radici, quindi avvieremo anche lì collaborazioni in ambito telecomunicazioni e Brasile ha una peculiarità che è grande, è enorme, tutto in Brasile è grande, non è comparabile con nulla in Italia, è tutto enorme, è tutto grande, milioni di persone che si connettono dalla mattina alla sera, durante la notte, sempre e c'è una fame, una richiesta di connessione indescrivibile. Il paese Brasile ha una peculiarità importante che nonostante uno possa pensare sia un paese un po' diverso dall'Italia, anche se in qualche aspetto ancora un po' non allineato all'Occidente, ma hanno una tecnologia molto forte, sono molto tecnologici, sono molto avanzate su questo aspetto e hanno tanta fame di connessione, senza parlare di quello che sono gli aspetti legati al clima, loro hanno un clima favoriorissimo, hanno probabilmente sempre sole e quindi hanno molta necessità di avere tanta energia rinnovabile, parliamo di fotovoltaico, un'altra peculiarità importante che è un altro business importantissimo per loro, forse uno dei più grandi business del Brasile è l'agricoltura, loro hanno dei campi enormi e per poterli gestire in maniera facile hanno bisogno di tecnologia, tanta tecnologia, quindi il nostro futuro è consolidare ciò che facciamo in Italia, sviluppare quello che facciamo con gli americani e aprirci fondamentalmente e totalmente in ambito internazionale. Grazie a tutti.